Hanno riempito il cortile del vecchio palazzo di giustizia con i loro striscioni e con le urla che chiedono una sola cosa. Non dichiarare fallita la Saem, l'azienda di Altamura, per cui lavorano 50 persone ma intorno alla quale ne gravitano altre 200. L'udienza di appello rispetto alla prima decisione dei giudici che non hanno omologato la richiesta di concordato preventivo dichiarando fallimento si terrà domani. La vicenda si trascina da tempo con un debito di 7 milioni di euro verso i subabaltatori, creditori privilegiati e chirografari. Una deputata del PD ha anche presentato un'interrogazione ai ministri del lavoro e dello sviluppo economico in cui sottolinea come gli incentivi per i parchi fotovoltaici realizzati dalla Saem rischino di finire alla stessa società russo-svizzera che controllava la ION, altra società per conto della quale la Saem ha lavorato e che è fallita. Come dire, debiti in Italia e incentivi all'estero. Nel mezzo ci sono gli operai e il loro futuro. Voi siete venuti qui per chiedere di continuare a lavorare in buona sostanza? Certo, perché ci sono tutti i presupposti per poterlo fare. Oltre ai lavori già in corso, alle commesse di manutenzione ordinaria, i committenti hanno chiesto delle offerte per delle attività straordinarie sugli impianti per circa un milione di euro. E sono disponibili a concederci, ad autorizzarci l'esecuzione di queste attività se l'azienda domani con l'appello ritorna in bonus. Grazie.